15 secondi. La televisione è l'industria più competitiva di questo pianeta. Perché un network vada in onda 24 ore al giorno, serve qualcosa che attiri il pubblico. Ti serve una gonna più corta. Ciao, perché se il tavolo è trasparente? Le donne sono dappertutto, giocano a tennis e a golfora. Pronto, risorse umane, mi ha chiamata Bocconcino. Sì, penso che dovrò rileggermi il manuale. A telecamere spenta era ancora peggio. Detesti gli uomini, devi andare d'accordo con i maschi, sei sexy ma sei troppo faticosa. Ho qui tutta una lista. Ci saranno altre donne a farsi avanti? Voglio convincerla che sono fatta per andare in onda, signore Hills. Credo che sarei un acquisto fenomenale per il suo network. Potrei tirarti fuori da lì e portarti in prima linea. Ma devo sapere che sei leale. Ho bisogno che trovi un modo per provarmelo. Sai perché Roger ha bloccato la porta del suo ufficio? Qualcuno deve alzare la voce, qualcuno deve arrabbiarsi. La star della TV Gretchen Carson ha fatto esplodere una vera bomba oggi. Che sto facendo? Questo ucciderà il mio network. Dobbiamo fare tutti squadra. Mettitelo, mettitelo. Questa è la fine del mondo. Si sono fatte avanti altre donne? Qualche mia collega? Capisci che devo tenermi al di sopra delle parti? Il tuo silenzio è stato notato. C'è un uomo! Pronta per andare in guerra? Oh, sì. Sì.